Gigantesco balcone all'interno del quale sono accatastati dei sacchi di immondizia E' quello che stiamo vedendo Esattamente, esattamente Bene, è un'opera che racconta, testimonia poeticamente come raramente un documentario riuscirebbe a fare e la dissolanza, il ricorrere a un titolo come Hope credo che metta alimenti in cortocircuito intellettuale che secondo me è la chiave per capire in che maniera l'arte ci può far vedere il presente